Musica Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Far Cry dove ci sono le acque che scassano il cazzo Allora, eh vieni giù, vieni giù, muoviti Sto aspettando Stronza di merda Eh, 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 ancora? Ti fermi che devo scogliarti Grazie, ok Allora, io sto cercando Quei cazzo di barrel di merda Perché mi servono per aumentare il portafoglio Ma ovviamente non li trovo Questi non sono barrel, eppure, cioè in teoria non sono barrel, però mi dice che sono qui Quello sta facendo il giro giro to Ok No, no, perché scappate? Cosa vi ho fatto? Non vi ho fatto niente Madonna Sono quelli Sono sicuro, sono sicuro, sono sicuro, sono quelli Forse finalmente li ho trovati ragazzi Ma sei stronzo Minchia che palle E io poi quando mi incazzo Quando mi incazzo, mi incazzo Perché non può essere che non riesco a prendere due cazzo di Cos'è successo? Sti poveracci No, lui no, va bene Allora, 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 allora Se io avessi un cazzo di mirino decente per questo arco Magari potrei anche fare qualcosa di meglio Eeeh, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Se questo è un barrel, basta, adesso vado a ballare per strada nudo Perché ieri ci ho messo una mezz'ora per trovarlo E infatti, se siamo mati, è un sambur Eh, perché ci avrei scommesso quello che volevate Eeeh, vabbè, allora, allora Siccome sono andato a vedere un video In cui trovano il barrel Solo che lo trovano in questa parte di mappa qui Allora, voglio andare a sbloccare la torre Così vedo, eeeh Vedo appunto, eeeh, dove si trovano sulla mappa Eeeh, spero di Di riuscire a prenderli per ampliarmi questo cazzo di portafoglio Perché, aia Perché non riesco più a tenere dentro soldi Perché sono troppo ricco e non mi ci stanno Aiuto, dovevo girare, ok La guida di questo gioco Secondo me Fa molto cagare Però, vabbè E' anche divertente, diciamo Si può fare drifting, ecco E' molto più facile Di molti altri giochi fare drifting Questo Si, poi, vabbè Eeeh, quando gira che non c'ha voglia Non gira e basta Cioè, non è che si fa problemi, eh Se non c'ha voglia di girare non gira e basta Beh, allora, come potete vedere La grafica, si e la grafica è bella Solo che io non posso tenerlo a chissà che impostazioni Soprattutto per registrare Cioè, anzi O meglio Ieri riuscivo a tenerlo in 1080 tutto a basso Riuscivo a andare a Sui 60 fps Tranquillamente Oggi lo apro E vado a 30 E non riesco a Andare di più di 30 E continua a calarmi gli fps Non so perché Allora, per registrare L'ho messo in 720 Tanto registro in 720 Quindi, vaffanculo Allora, adesso io lì La torre Ho paura che ci sia qualcuno Quindi Ah Direi di parcheggiare qui Sembra un tosaerba Quando Vabbè Allora, vediamo un attimo Dove c'è? Si sale Paura che ci sia qualcuno Allora Comincia la scalata Verso la torre Per me Ah Salve Un altro da elettricista Bene E Non so dove debba Salire io però Qua Qua posso salire Ah no Devo salire qui Si però Se ti bughi Scusa Sali Grazie mille Dove Devo Oh 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 Se riesco Se riesco a prenderlo Mamma mia Mamma mia Vi faccio Vi faccio un rallenty Impressionante Se riesco a prenderlo Infatti Non ve lo faccio Rallenty Vaffanculo Oh 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 Madonna Perché l'ho fatto Perché Spiegatemelo Perché l'ho fatto Io salgo Io salgo Io salgo Scappo 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 E poi cado Perché sono deficiente Io Ma che palle Vabbè Vabbè Grazie Insomma Visto Madonna Quanti sono Da dove Arrivano tutti Vabbè Uno è morto E madonna Sei stronzo Ma quello è un cecchino Oddio Mamma mia Oddio Allora Mi sto Incazzando Oh 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 Dov'è Dov'è Dio santo Ma state fermi State Sì Poi io sono anche Coglione Sparo le frecce Senza Vabbè Me lo puoi segnare Sulla mappa Scusa Dove cazzo è Madonna Devo riuscire a salire Porca puttana Troia Perché Gli ho sparato Non potevo Non potevo far finta Di niente Madonna Schifosa Ah Oh Vai E sblocchiamo Almeno la mappa Porca troia Vai Cazzo Tanto adesso Mi butto giù Allora Mi fa vedere Cosa sblocco Ok Adesso Adesso Gratis Nei punti Cazzo Non ho visto Ma non mi caga più nessuno Beh 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 Non c'è problema Non è che mi offendo Allora Abilità 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 Posso fare Posso fare Mirare Sparare Con le armi secondarie Mentre Sposti un corpo Veicoli resistono Più danni Questo Ottimo Adesso io Me ne vado Ben bene Me ne sbatto Il cazzo Di tutti E va Fanculo La mappa Si è sbloccata E E E E E E Cazzo Non ci sono Qui Non ci sono Quelli che Mi servono A me Quindi I barrel Che sarebbero Questi Che però Ovviamente Lì non ci sono Non so il motivo Dovrei sbloccare Anche l'altra Torre E Vabbè dai Sblocchiamo Anche l'altra Torre Tanto ci arrivo Mell'elicottero Se lo faccio E per uscire Dove va Ma Malandicappataggine E E E Ah ok Qui Ottimo Allora 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 Qua Oh madonna Che palle Mi sono Mi hanno scoperto I cadaveri Dio No Non fatemi passare Lì davanti Vi prego Facciamo Facciamo finta Di niente Dove devo Andare Le scatole Che si tagliano Come Come se fossero Di cartone Magari Sono di cartone Però Eh Pensavo fossero Di legno Però magari Erano di cartone Dove 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 Di qui Ok Adesso Qui Oh Vai Ottimo ragazzi Ottimo 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 Ho sbloccato La casa Di Pravin La camera Della tristezza Di Satish La tana Delle tigri Bene E Eccoci qui Allora A me servirebbe Un bel Un bel Mercante In giro Per comprare Delle frecce Perché le ho finite Perché ovviamente Io sono Indicapato E le ho finite Allora Fuori a cazzo Ciao Addio Allora Madonna Sì Ma che palle Però Quello era un mercante Per chi non lo sapesse Era un mercante Da cui volevo Comprare delle frecce Perché se no Io adesso Come cazzo Ci caccio Con la mitraglietta Non penso Porca Puttana Mi servivano le frecce Del mercante Però ovviamente Lui è in mezzo Alla strada Che corre E poi te Ti danno la colpata Cazzo vuoi? Ti ammazzo la famiglia Stai attento Allora Cosa stai facendo? Ovviamente Io vado nell'armadio E posso comprare Quello che voglio Perché posso sbloccare Le arme Ok Compra personalizza Munizioni Frecce E prenderei Anche un po' Di que' Ah già Ehm Va bene Pozione curativa Ce l'ho Venderei qualcosa Tipo quelle che mi da Uso consigliato Vendi Portafoglio pieno Ti pareva Non ci avevo pensato Che avevo portafogli pieno E non potevo vendere Vabbè Vabbè Adesso almeno C'ho le frecce Come cazzo Ci salgo io Qua sopra Da qui Allora Scendi un attimo Metti il freno a mano Zio Freno a mano Vabbè Affanculo Tanto non era la mia Cosa 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 Ah ok Si è fermata contro la pietra A posto Allora Shh Shh Dobbiamo cercare i baral Shh Salve Non è che ne avete visto uno voi No Per caso Non è che avete magari anche ucciso Già che c'eravate No eh Inutili come le merde Come sempre Eh Aquila Lora Non scassiamo il cazzo Per piacere Non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Perché io non posso trovare baral Spiegatemelo Per quale motivo Io non posso trovare baral Si è un baral No un baral Un cazzo Questo Perché io nella zona dei baral Trovo tutta altro che i baral Perché ci sono dei tapiri malesi in questa zona Perché Per quale cazzo di motivo Spiegatemelo Perché sto andando a 20 fps Anche quello Spiegatemelo Cosa 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 Ha preso una Una pe È un baral È un baral Grazie Aquila Ti amo Ti amo Dove sei Vieni qua Ti do un bacio Dove sei Dove sei Mi hai scassato Il cazzo Per non so quanto tempo Ti No Basta Basta Ti amo Ti amo Ti amo Ti amo Portafogli Cazzo Vai Mamma mia Mamma mia Mamma mia Grande ragazzi Grande Pelle di baral Quanto me ne ha dato Però Me ne serve ancora una Cazzo Madonna Io la stimo Quell'aquila La stimo Troppo Tanto La amo Quelli sono Baral Non lo so Sapete Ah La mia macchinina Qua Oddio Piano 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 Si Sembrano Di si Vabbè Dai Non mi Basta E' un baral Si Sembrerebbe Di si Perfetto Quindi Posso fare Posso fare La borsa Munizioni Ottimo Sono contento Posso tornarmene A casa E quindi Per questo Video è tutto Sarà uscito Un po' Lungo Ma Vi farò Un po' Di tagli Perché Ci sono Delle parti Un po' Che non Avrebbero Senso Quindi Allora Arriviamo A Casina Dov'è? Qua Ok Per questo Video è tutto Spero che Si veda Si senta bene E tutto E Ci vediamo Alla prossima 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 Alla prossima